Welcome back Argiulli, SMT is back e lo fa la grande, nuova tipologia di video, ma spero stesso divertimento e stessa ignoranza. Fateci sapere se vi piace questa nuova tipologia di video, nei commenti o con un bel mi piace, dateci suggerimenti e se dobbiamo farne altri. Nel gameplay non sarò da solo, ci sarà anche H, ora vi lascio alle immagini, buon divertimento e ricordate, stay angry, stay biru! No, no, ehm, di furtezza lo prendiamo a modo in me. Argiullo! Dai, uccidetelo, uccidetelo! Dai, 880, su! Sono dietro di te, Hop! Andiamo di Colt! Miniorati! C'è ancora uno da qualche parte! Sto andando a pigliare, non so dove... Visto! È davanti a me, è davanti a me! GRANDEEEEEEE! Ops, via! Dietro, dietro di me! Via! Abbiamo conquistato, l'obiettivo è... Abbiamo l'obiettivo! Perché ha parlato di tipo come un pugliese? Abbiamo l'obiettivo! Abbiamo l'obiettivo! Oh, vabbè! Cosa? Tastito! Abbiamo l'obiettivo! One hand! Merda! Quanti cazzo sono? Sono tanti! Quanti cazzo sono io con la Colt? Pum, pum, pum! Porca puttana! Dalla fortezza! Ci stiamo sparando dalla fortezza! Sto ben andando alla fortezza! E allora prendo il Martini! E vengo con te! Il Martini va bene, con i scontri ravvicinati! Perché il mio personaggio non riesce a salire, per la madonna! Oh, porca puttana! Infatti, io ero rimasto qua dietro proprio perché l'avevo visto! Eri tu che mi eri passato davanti? Sì! Io passo e vedo il tipo che si gira col cannone! Infatti perché... BOOM! Non sono riuscito a ucciderlo! Allora mi sono chinato da parte al muretto e ho caricato la balettra con la granata! Ahahahah! Ma cosa? Non c'è il passo! Oh oh! Oh oh! Cosa è? Eh, il cannone ci sta prendendo di mira! No problem! Lo stiriamo giù! Il cannone! Abbi fede! Ok! C'è più che altro? Il cannone è fu... Sei morto? No, io mi ero spostato perché dietro c'è un muro e per quello che dicevo! Ho detto abbi fede! BOOM! Morto! Da cosa? Dal cannone! Ahahahah! Non è nemmeno! Un evento! neues UptCI! Buon appetito! Ehi, qualcuno si vuole unire? Guido io! Vabbè, siamo a posto allora! MAMOS! Per la Francia! No, siamo... Cosa siamo? Siamo inglesi. Per la regina! Porca puttana! Che cazzo di volo che ho appena fatto tra le dune? Se riesco a sopravvivere sono un grandman! Dio è dalla mia parte figli di puttana! E ora vi ucciderò tutti quanti! No, 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 no Ho vinto, ok San Quintino 24-11? Ah, abbiamo fatto quasi Ma è andata bene Sto game, eh? Sì, è andata bene Tu hai fatto 24-11 o 28-12 Ho visto Not bad Ma col cecchino se lo giochi bene Fai un patacco di kill Ed è tutto per oggi Vi ricordo di mettere un mi piace Di commentare, qualsiasi suggerimento è ben accetto Di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Di andare anche sulla pagina Facebook Passate anche sul canale Instagram Niente Stay angry Stay biru Al prossimo video